Gentili telespettatori, buona giornata. La petizione per far fuori politicamente la russa gli viene consegnata, ma lui sistema così quelli che gli portano le firme. Allora una parte della sinistra ha raccolto le firme per cacciare la russa dal suo ruolo di presidente del senato, seconda carica dello stato e vicepresidente della repubblica. Inizialmente la russa non ha risposto ai promotori di questa petizione per cacciarlo. La delegazione è guidata da Maurizio Acerbo e Giovanni Russo Spena, rappresentanti di rifondazione comunista e promotori della sottoscrizione avviata due mesi fa per richiedere le dimissioni proprio di la russa dopo le dichiarazioni di Via Rasella quando diceva che erano dei pensionati che suonavano in una banda, no? Vi ricordate? Tutto quel caos che è venuto. Quando era scoppiata la polemica la russa aveva dovuto fare retromarcia. La Meloni l'ha obbligato a dire che si era sbagliato, che non la pensava così, che invece la realtà storica era quella giusta, quello che diceva lui si era sbagliato, imposto dalla Meloni proprio perché è un po' stanca delle dichiarazioni di la russa. La russa amico amico, ma amico amico, però ha tutto a un limite, anche gli amici insomma a un certo punto cominciano anche a creare dei problemi e quindi lui fece marcia indietro e aveva risposto alle critiche proprio dicendo che si era sbagliato. Tra i primi ad aderire a queste firme contro la russa c'era ad esempio Aldo Tortorella, Partigiano, Gastone Gottino, Arturo Scotto, deputato del PD, e l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti. Bene, diceva così la russa quando è stato costretto a smentire se stesso, diceva così fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso. Quindi la russa dice beh insomma se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa anche se realmente non ho offeso nessuno, questo è il concetto, non ho offeso nessuno ma se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa lo stesso. La raccolta firme di rifondazione comunista da inizio aprile fino a ieri ha raccolto 104.000 firme che sono state consegnate in una chiavetta USB al presidente del senato la russa che riceve questa delegazione e guarda la chiavetta no? E i comunisti che gli portano la USB con le firme dice non abbiamo pregiudizi verso la persona. Come no? Altro che se hanno pregiudizi contro la russa figurati è proprio pregiudizio contro di lui ma loro dicono noi non abbiamo pregiudizi verso la persona dice Maurizio Acerbo e Giovanni Russo Spena una volta accolti a Palazzo Madama. Quindi loro dicono noi non siamo contro di te siamo contro la figura istituzionale che tu rappresenti che ha detto quelle cose. Quindi niente contro Ignazio la russa persona ma la carica istituzionale. In realtà è proprio contro Ignazio la russa praticamente indicato da moltissimi come un vero e proprio nostalgico di quelli di quelli così no proprio. Ecco quindi altro che non abbiamo pregiudizi verso la persona sì che ci sono pregiudizi verso la persona. Comunque a parte questo dice poi così la risposta di la russa è questa. L'ultima volta che mi sono presentato con le preferenze ho preso 223.986 voti in un quinto dell'Italia per cui ho molto rispetto per i 100.000 che non mi sono politicamente amici ma non ho uguale rispetto ma ho uguale rispetto per i 223.000 che mi hanno votato solo in un quinto d'Italia. Ecco perché non mi posso dimettere per una quota pari a meno della metà di quelli che solo a Milano mi hanno votato. Il colloquio è durato a mezz'ora. Secondo il segretario nazionale di rifondazione comunista a Cerbo le parole di la russa ci hanno fatto capire che non ha capito il ruolo che ha il presidente del senato. La raccolta firme non mette in discussione il fatto che lui sia un politico di lungo corso e con un consenso consolidato ma crediamo che da presidente del senato non si possano fare affermazioni offensive verso la resistenza. insomma cosa vi devo dire chi è il presidente della repubblica chi è a capo del senato chi è a capo della della camera dei deputati sono delle figure di stato sono delle figure di stato una cosa il governo presidente del consiglio ministri la struttura del governo ma fontana la russa e mattarella fanno parte della struttura dello stato loro rappresentano lo stato mentre il governo e la meloni rappresentano il governo cioè quelli che fanno mentre di qua sono quelli che rappresentano tutti gli italiani rappresentano l'unità d'italia l'unità della nazione rappresentano lo stato quindi chi è presidente della repubblica chi è presidente del senato che è il vice presidente della repubblica e chi chi è il presidente del della camera dei deputati che la terza carica dello stato devono stare molto attenti alle parole che utilizzano perché non sono più esponenti di partito non sono più all'opposizione sono delle figure istituzionali di altissimo livello e rappresentano la nazione e tutti quelli che ne fanno parte tutti quindi il presidente del senato della repubblica e della camera prima di parlare devono pensare cento volte a quello che stanno per dire quindi bisogna stare attenti a tutto quello che si dice e soprattutto a non dire fesserie a non dire cretinerie grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti io vi ringrazio per avermi ascoltato ricordatevi che c'è anche tele italia e seconda rete tele italia seconda rete dove trovate questi video da poter condividere commentare e poi soprattutto li li potete poi trovare su facebook nella pagina tele italia li condividerli con chi volete grazie a tutti arrivederci a presto a presto